Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che anche quest'oggi avrà il suo spin-off in Studio Telequattro dove sarà con noi la dottoressa Fulvia Adarossi, quindi parleremo di animali. Nella seconda parte Cristina Bonadei e Massimo Tomasini ci presenteranno una nuova associazione che si chiama Associazione Culturale Adelinquere, quindi già il nome promette promette bene, poi vedremo meglio di che cosa si tratta. Nella prima parte siamo invece in compagnia della dottoressa Maya De Simoni che è il project manager di ESOF 2020 nonché responsabile del marketing e del fundraising. Grazie dottoressa per essere venuta a trovarci per parlare fondamentalmente di un aspetto di ESOF 2020 che diciamo così corre parallelo a quello diciamo ufficiale, a quello di cui abbiamo parlato parecchie volte eccetera, ma che voglio dire è altrettanto importante ed è, si potrebbe dire diciamo così l'altra faccia di ESOF 2020 anche se insomma la terminologia è un po' discutibile. Ma intanto buonasera a tutti, buonasera a lei. ESOF è un animale diciamo multiforme, è un grande contenitore ed è un evento che ha tante facce e finora anche perché ovviamente la preparazione è molto complessa perché tanto che siamo partiti anche molto presto, no? Cioè da luglio di fatto siamo operativi con un team anche che ha dei compiti precisi e oggi finalmente possiamo cominciare anche a comunicare tutti i livelli di ESOF che sono ovviamente molteplici. C'è quello scientifico che corre su diciamo su tutta la banda dell'evento perché è quello che racchiude tutto, quindi scienza, ma scienza vuol dire tante cose, vuol dire scienza che parla a coloro che fanno la politica dei paesi e la politica dell'Europa, no? Perché la scienza oggi di fatto è parte della nostra vita in maniera così intrisa, così anche noi non nemmeno ce ne rendiamo più conto, però di fatto la scienza è ovunque, è nella tecnologia, è nelle cose che utilizziamo e quindi scienza oggi vuol dire tante declinazioni, quindi scienza vuol dire anche parlare alle imprese, vuol dire parlare ai giovani, vuol dire creare per esempio delle professioni, parlare delle professioni del futuro perché oggi i ragazzi studiano cose che di fatto fra dieci anni probabilmente non serviranno più o che perlomeno serviranno, oggi si parla delle soft skills, no? Come quelle competenze che sono competenze generali, capacità di adattarsi, flessibilità, creatività, ma che poi devono essere in qualche modo una base su delle competenze tecniche in ambito tecnologico e che sono professioni che oggi di fatto non esistono e che noi oggi non siamo nemmeno in grado quasi di prevedere. Quindi ESOF è tante cose diverse, è una fucina di tante idee, d'altronde la scienza crea continuamente cose che ove non trovano un humus, non diventano realtà e per diventare realtà la realtà deve essere in grado di capire la scienza e la scienza come sappiamo viene spesso ancora vista nel nostro paese come una cosa un po' noiosa, come una cosa che io stessa non sono una scienziata e per me è stato un nuovo approccio, una nuova una nuova esperienza, io ho esperienze abbastanza diverse anche professionali, quindi per me è una nuova cosa. C'è una cosa, mi rendo conto che avrei dovuto chiederlo quando era qua il professor Fantoni un paio di settimane fa, però la chiedo anche a lei a questo punto, ripeto, è più una domanda per uno scienziato, però è anche possibile che se le cose non cambiano in questo anno e mezzo che ci separa dall'appuntamento, che l'importanza di ESOF 2020 cresca nella misura in cui cresce questa necessità da parte degli scienziati che vorrebbe dire quasi da difendersi, nel senso che stiamo assistendo a qualche cosa che fino a pochi anni fa sarebbe stato assolutamente impensabile con la scienza che deve quasi giustificarsi rispetto a quello che sentiamo, a quello che leggiamo sui social, alle fake news, eccetera. Quindi potrebbe darsi che a livello scientifico, più che a livello di quello che sta allestendo, che sta mettendo in piedi lei, ci sia anche questa necessità di cambiare in corso d'opera la parte della missione di ESOF 2020. Guardi, nel progetto ESOF ci sono ovviamente una serie di attività e queste attività partono fin da ora. Noi abbiamo creato una cosa nuova che Euroscience non aveva creato mai, che sono le attività pro ESOF, o pro ESOF significa propedeutiche al grande evento che si svolgerà nel 2020. Propedeutiche significa che hanno, peraltro, parlano a tanti target diversi, cioè parlano ai ragazzi, tanto che noi nel 2019 a Trieste avremo un grandissimo evento fatto dalle scuole, per cui una scuola di Trieste ha vinto tra l'altro un progetto del Ministero molto ben finanziato per un evento che parla delle professioni del futuro. E questa cosa è arrivata a Trieste probabilmente perché ESOF è un motore, quindi progetti che vengono continuamente presentati. Noi abbiamo ricevuto, nelle ultime due call, più di 100 progetti di enti, associazioni, anche imprese, che desiderano stare sotto il cappello di ESOF e desiderano comunicare in maniera più ampia ciò che fanno. Quindi io credo che la scienza non si debba difendere, la scienza è libera, come dice sempre il professor Fantoni, la scienza è libera e davanti a una lavagna siamo tutti uguali e la scienza indaga, indaga senza pregiudizi, indaga a prescindere. Poi il problema è come viene utilizzato, ma questo su questo non entro, ma se la comunicazione avviene in maniera corretta e se la scienza ha il diritto di indagare sempre, anzi se non ci fosse la scienza che indaga dove saremo? Saremo forse ancora molto indietro. È possibile che in corso d'opera ci siano appunto delle... Ma ci saranno degli aggiustamenti, ma giustamente gli aggiustamenti si fanno perché nel marketing gli aggiustamenti si devono fare, cioè oggi noi dobbiamo comunicare in maniera corretta, perché le persone capiscano. Oggi noi ci rendiamo conto che ESOF è così complesso che anche noi abbiamo fatto fatica, noi che ci lavoriamo, abbiamo fatto fatica a capire tutte le mille sfaccettature che ha e oggi ci stiamo preparando, come vede oggi ci sono io, l'altra volta c'era il professor Fantoni, verranno anche i miei colleghi perché ognuno di noi tra l'altro si occupa di una parte... Molto specifica. Abbastanza specifica, certamente, quindi... Parliamo un po' anche del... perché si discute anche molto e secondo me questo è un dato importantissimo per la città, si discute anche molto sul luogo scelto per ospitare. È un luogo simbolo. È un luogo simbolo, sì. È un luogo simbolo. L'idea anche, voglio dire, che grazie ad ESOF Trieste incominci in maniera, si spera, sempre più definitiva a riappropriarsi della città proibita, perché insomma noi non ci siamo, anzi ce ne siamo accorti di avere questa altra città in pratica, che per tutta una serie di ragioni sulle quali è meglio non indagare non si utilizzavano. Si sta, come dire, allestendo, si sta preparando, abbiamo visto i primi rendering del nuovo Palazzo dei Congressi, insomma, che appunto ospiterà ESOF, però c'è tutta anche un'altra serie di luoghi dove ESOF e dove tra l'altro già si lavora. Assolutamente, noi siamo come una specie di avamposto, il nostro fortino, noi grazie al Comune abbiamo avuto questa sede, che è la sottostazione elettrica, dove noi ormai siamo lì, e anzi invito qualcuno, qualche imprenditore, a metterci anche un bar lì vicino, saremo felici di poter prendere un caffè, che non sia quello della macchinetta, o mangiarci un panino magari, penso che ci siamo solo noi. Comprendo. Ecco, intanto abbiamo fame. Comunque c'è questo fortino, utilizzeremo ovviamente, speriamo, noi siamo veramente i primi sostenitori del TCC, perché ovviamente per noi che il Centro Congressi si faccia è fondamentale, noi abbiamo il famoso piano B, di cui non vogliamo assolutamente parlare, non lo prendiamo nemmeno in considerazione, ma ovviamente ci dobbiamo lavorare, però ovviamente speriamo che invece il Centro Congressi sia pronto, sia pronto in tempo e sia fatto nella sua versione più ampia, però ecco, ESOF in realtà non utilizzerà soltanto il TCC, ESOF utilizzerà molti altri spazi, che sono il 26, dove dovremmo allestire delle sale, perché ESOF raccoglierà dentro il villaggio ESOF, intorno a una piazza, che noi andremo ad allestire, perché vogliamo dare questo... La piazza è quella del... La piazza è quella che guarderà il mare, che guarda il bacino... Quindi 26, idrodinamica... Esatto, cioè se uno prende 26, l'idrodinamica, la sottostazione elettrica dove sono i nostri quartieri generale, 27, 28, lì si apre una piazza. Noi vogliamo comunicare, perché fare un evento scientifico non vuol dire soltanto mettere le persone dentro un'aula, vuol dire... Dare loro la possibilità di vivere la piazza italiana, perché comunque la cultura italiana è il modo di vivere italiano, quindi scienza sì, ma anche un po' di comunicazione interpersonale, relazioni, incontri, creazione di nuovi sistemi di collaborazione. ESOF è anche questo, ESOF ha bisogno di luoghi di relax, di luoghi dove potersi incontrare, oltre alle sale dove si ascoltano le sessioni, quindi 12 sale in contemporanea di sottosessione, che sono tante, ce le dobbiamo allestire negli spazi che abbiamo, una grande piazza intorno alla quale graviterà tutta questa cosa, un grande spazio espositivo, perché ci aspettiamo aziende che espongono, aziende della tecnologia, ma non soltanto. Ci saranno più di 100 espositori, quindi anche una parte fiera, se vogliamo, non propriamente una fiera, però una parte dove si potranno vedere nuove tecnologie, speriamo anzi di attrarre degli sponsor anche con una visione del futuro, che poi quelli che fanno tecnologie, trasferimento tecnologico e innovazione, ce l'hanno la visione sul futuro, tanto che cercano disperatamente giovani talenti, che se no devono far venire dall'estero, e c'è una grande azienda del nostro territorio, di cui non faccio i nomi, con i quali siamo in contatto, ci dicono vi preghiamo, fate venire giovani, noi abbiamo bisogno di giovani che lavorino e che siano in grado di portare questa nuova aria dentro le nostre aziende e una mentalità tecnologica e competenze nuove, e li cercano, li cercano veramente con grande cura. Quindi per i giovani che potranno accedere, perché noi apriremo questo villaggio anche alla città, tanto che faremo degli... non potranno entrare nel sale, ovviamente, perché nelle sale ci sono delle cose scientifiche, oddio, iscrivendosi magari potranno, ci saranno delle quote molto, diciamo così, a buon mercato per gli studenti, per i giovani che vogliono venire ad ascoltare delle cose, magari quote giornaliere, no? E noi vogliamo dare la possibilità veramente la città di vivere questa cosa e di poter assaggiare cosa vuol dire essere il centro del mondo, perché di fatto per una settimana, anzi due settimane noi saremmo il centro del mondo e in qualche modo lo siamo già, perché noi abbiamo già acquisito dopo Tolosa l'etichetta di Trieste, città europea della scienza 2020. Quindi tutti i riflettori sono qui, sono qui con aspettative diverse da parte delle aziende, da parte dei giovani, da parte dei ricercatori che sono in cerca di Grant, che vogliono incontrare le aziende, da parte dei parchi scientifici. Quindi ESOF è un luogo di dialogo fondamentalmente, non è un convegno. No, no. E tutto questo sarà condito da un Science in the City Festival. Ecco, questo non so se se ne è parlato a lungo, se se ne è parlato già, forse ancora... Forse è un po' sì, però anche questo, questo è un evento nell'evento, perché la città in luoghi che non sono lì dentro, anche se noi porteremo degli eventi serali anche lì, quindi inviteremo i cittadini a venire, ma in vari luoghi della città, piazze, luoghi chiusi, anche spazi non convenzionali, invece verranno fatti eventi di natura scientifica, di divulgazione scientifica, adatti a vari tipi di target, quindi dai bambini fino agli adulti curiosi e ovviamente scienziati stessi, perché gli scienziati stessi che vengono all'evento avranno il piacere di partecipare, quindi teatro, danza, musica, anche linguaggi universali, sempre legati alla scienza, e questi eventi saranno dal 29 giugno fino al 10 luglio, quindi fino alla fine dell'evento, mentre l'evento scientifico si svolgerà dal 5 al 9 di luglio. Quindi un luglio... Ecco, mancano poco... cos'è io non riesco a far bene un anno e tre quarti? Quanto manca? Sì, poco meno di due anni, c'è il contattore sotto il comune, quindi noi ogni volta che passiamo di là lo vediamo... Manca tanto o manca poco? Perché qua dipende un po' da dove si analizza la questione, no? Ma manca... io che faccio il project manager, quindi sono quella che dovrebbe anche organizzare le attività, manca poco. Ecco, intendevo a livello, come posso dire, ragioniamo in questione di tempo, ecco voglio dire, non riesco a capire se per un evento di questo genere un anno e mezzo è tanto e poco. No, se diciamo... siamo... guarda, io sono molto felice di una cosa, perché noi abbiamo fatto un audit con i nostri colleghi europei e ci hanno così messi un po' alla prova per vedere a che punto siamo, come siamo organizzati e devo dire che abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi, per una volta ci hanno detto siete in tempo, siete molto ben organizzati, siete molto ben strutturati, avete già fatto tante cose, quindi per una volta, non so come dire, possiamo dirci che stiamo lavorando bene, stiamo lavorando in maniera molto professionale e quindi io credo che siamo assolutamente in tempo. Certamente il ritmo aumenta progressivamente, ci sono tante cose da mettere insieme. Ecco, c'è intanto anche, mi pare, che state preparando tutte le iniziative, tutti gli accordi che riguardano i paesi dell'est, perché una delle carte vincenti che tra l'altro ha anche concesso appunto a Trieste di ottenere le vittorie insomma contro gli olandesi, è stato il coinvolgimento dei paesi dell'est e questa è stata vista anche come una grande novità sotto certi aspetti, e adesso là mi pare che si sta incominciando un po' a, come si dice, a stringere accordi, a stringere le fila, insomma. ESOF è stato sempre un evento dove hanno partecipato persone da 80 paesi, quindi comunque è un evento veramente internazionale, però quello che è stato lo storico è che i paesi dell'est, che non sono solo per noi Croazia, Slovenia, diciamo i nostri limitrofi, ma un po' più in là, hanno avuto sempre difficoltà a presentare progetti, perché ESOF funziona così, c'è un programma che viene in parte organizzato top down, quindi con dei grandi keynote speaker, delle grandi star, i Nobel, ma poi c'è tutta una parte che invece, come in ambito scientifico, arrivano come proposta bottom up, quindi tante proposte che poi vengono scelte, riviste e messe nel programma, se meritevoli. Da questi paesi le proposte sono poche, però l'Europa ha bisogno di allargarsi, ma ha bisogno di allargarsi proprio su base scientifica, perché noi oggi stiamo scontando un po' il fatto che l'Europa è sempre molto forte come pensiero, come idee, però diciamo che la tecnologia oggi sono tanti anni che ormai è molto in Cina e molto negli Stati Uniti, quindi l'Europa sta cercando sull'unità europea di riappropriarsi di un ruolo leader in ambito tecnologico e nell'ambito del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, quindi c'è la volontà di fare un'Europa e quindi questi paesi che hanno sempre abbastanza difficoltà a partecipare invece, e noi qui siamo realmente visti come una porta verso l'est, questo è stato il punto, e poi l'humus che ha Trieste, dal punto di vista degli enti scientifici e di un sistema scientifico, che è un reale sistema scientifico, magari migliorabile, certamente insomma rivedibile per certi versi, però è un sistema che è comunque un sistema coeso, è un sistema che comunque ha cambiato il rivolto della città, ed è un sistema che funziona. Oggi qui alla Sista si fanno ricerche di altissimo livello, collaborazioni con aziende leader a livello globale, e queste cose non si sanno, ma qui realmente si fa innovazione, qui si scrivono algoritmi che vengono utilizzati in sistemi software dell'industria 4.0 e che nemmeno si sa, ma lo sanno nel resto del mondo, quindi Trieste è vista come veramente un punto nevralgico, è come un luogo dal quale partire, quindi noi stiamo organizzando degli eventi di presentazione, il 23 novembre siamo a Ljubljana, il 15 e 16 prossima settimana siamo sempre a Ljubljana per il GRC, quindi collaborazione stretta con la comunità europea e con gli uffici che si occupano di innovazione di ricerca a livello europeo, e poi Bulgaria, poi andremo in Repubblica Ceca, in Slovacchia, con i rumeni abbiamo già creato un evento con gli artisti, quando faranno la mostra in Romania a Buccarest andremo a fare una presentazione, abbiamo con tutti i consolati stiamo aprendo delle relazioni per fare eventi di presentazione in questi paesi, quindi da qui in poi si parte... Un altro capitolo di quella che viene chiamata, che esiste, come concetto esiste da parecchio tempo, che è la diplomazia della scienza. Assolutamente, assolutamente. Contatti con gli enti scientifici per dare loro l'input affinché presentino progetti, affinché vengano, daremo degli spazi anche a questi enti, affinché possano essere qui presenti e poter instaurare collaborazioni con l'università, perché da una parte c'è l'università, da una parte c'è le imprese, dall'altra parte ci sono i parchi scientifici, le infrastrutture di ricerca, che sono ancora un'altra cosa. Quindi un luogo privilegiato di dialogo. E la questione invece del fundraising? Che questa è una cosa un po' nuova anche per... Eh sì, sì. Beh, questo è un evento che ovviamente costerà molto, è un evento che ha bisogno di parecchio sostegno, anche perché insomma, anche semplicemente invitare e ospitare le grandi star della scienza in questa città per il periodo dell'evento, ovviamente costa, costerà mettere in piedi tutti gli allestimenti, produrre tutti questi eventi in giro per la città, insomma questo ha dei costi. E quindi abbiamo sicuramente, abbiamo già ovviamente una serie di finanziamenti che sono per lo più pubblici, ministeriali, arriveranno anche dei fondi europei, però insomma i soldini ovviamente non bastano mai, però ovviamente c'è tutta una parte privata, una parte che andremo anche a chiedere alle imprese, ma perché? Perché vogliamo dare loro la possibilità in quello che è l'ambito science to business, quindi c'è tutto questo filone scienza e dialogo tra scienza e mercato, quindi per fare in modo che ci sia una possibilità di collaborazione vera, e quindi la possibilità alle aziende anche di rappresentarsi e di essere visibili, perché stiamo parlando comunque di tante persone. Per quello che riguarda il suo punto di vista, perché appunto ricordo che qui stiamo sondando un altro lavoro di preparazione a Esov, che cosa capta in città, intorno ad Esov? Ma guardi, tantissima curiosità, alcuni che ovviamente hanno magari già sentito delle presentazioni, perché comunque il professor Fantoni sta girando molto, noi abbiamo fatto tante collaborazioni, ovviamente alcuni già lo conoscono bene, altri sono molto incuriositi e anche telefonano, chiedono informazioni, noi non abbiamo neanche ancora preparato il sito, ci stiamo lavorando, quindi non ci sono delle informazioni online che uno può trovare, quindi in questo momento stiamo facendo il porta-porta, noi in qualche modo, ma tra poco saremo ovviamente visibili. Curiosità, tantissima curiosità, delle volte anche volerci essere, anche se magari non si fa parte del mondo scientifico. perché è l'idea, guardi mi ha chiamato un gioielliere che mi ha detto io vorrei fare un gioiello per Esov. Sì, 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 ho capito. Quindi... Qui c'è un coinvolgimento, ecco insomma. Sì, c'è proprio la voglia di essere parte di, che secondo me è molto bella. Quale sarà il primo, diciamo così, grosso avvenimento, chiamiamolo... Beh, allora, già per esempio alcuni spettacoli del cartellone del Teatro Stabile del Fulio Venezia Giulia sono contrassegnati proprio dal marchio Pro Esov. Ma quale sarà per esempio il primo grosso avvenimento, diciamo così, pubblico di preparazione a Esov? È previsto? Se può dirlo, se non può dirlo... Allora, sicuramente ci sarà. Ok. In questo momento stiamo valutando una serie di cose, ovviamente non sarà adesso, perché sarebbe troppo presto, sarà molto più avanti, però stiamo cercando di portare a Trieste una grandissima mostra, una mostra per tutti. Ho capito. E vogliamo che questo sia in qualche modo il respiro... Non vogliamo fare una cosa mondana, vogliamo fare una cosa altamente culturale, un regalo alla città e pensiamo che questo sia il modo migliore per... Quindi è bello anche l'idea che scienza incontra l'arte. Assolutamente. E come dire, si faccia conoscere, mettiamo così, anche se il termine non è dei migliori, mi rendo conto, ma del resto sono raffreddato. Si faccia strada, mettiamola così, ancora peggio forse, proprio attraverso l'arte mi parli di capire. Ma insomma, poi dopo... I linguaggi sono sempre fluidi, io credo che la scienza ha molto bisogno di farsi capire, questo lo sto capendo io, che mi sono avvicinata e non parlo la stessa lingua della scienza, ed è molto interessante questo scambio, perché sto imparando tanto, allo stesso tempo capisco... Beh, lei porta... Che nella mia totale ignoranza, perché io ovviamente sono ignorante, perché non sono una scienziata, sono una manager, quindi insomma ho un mio linguaggio. Ecco, è sempre una questione di linguaggi. Sì. Ci si rende conto che viviamo in bolle di linguaggi diversi, e che far parlare queste bolle... Aprire la bolla, insomma, come si dice. ...è molto difficile, ma quando avviene è dirompente. Allora, grazie a Maya De Simoni, che è project manager di ESOF 2020, nonché responsabile del marketing e del fundraising. Buon lavoro, davvero. Poi magari ogni tanto torniamo a vederci, così ci racconta. Magari ci darà qualche raguaglio in più su questo evento. Grazie. Grazie ancora, davvero. Dopo la pubblicità cambiamo argomento e parliamo, veramente scopriamo questa associazione culturale a delinquere. E per qualcuno mi rendo anche conto che cultura e delinquenza purtroppo sono cose che sembrano andare d'accordo. Insomma, comunque ci spiegheranno i due responsabili tra un po'. Dopo la pubblicità. Grazie. Seconda parte di Trieste in diretta. Come annunciato, siamo in compagnia del Presidente, della Vice Presidente di questa associazione culturale che si chiama Associazione Culturale a delinquere. Nella fattispecie, Massimo Tomasini è il Presidente, Cristina Bonadei la Vice Presidente. Allora, come dire, si vorrebbe cominciare a parlare con il Presidente, però insomma, essendo la Vice Presidente una signora, cominciamo da lei, ecco, insomma. Ma va bene, va bene. Questo poi ricordala, questo favore enorme. Va bene, tra colleghi ce lo ricorderemo. Io posso anche andarsene. No, 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 no. Anzi. No, sarà una cosa polifonica, non soltanto tra di noi. Perché, a parte che il nome è divertentissimo, perché l'associazione culturale ha delinquere? Sì, no, in realtà non c'è una motivazione ben precisa, al di là del fatto che la cultura in qualche modo è sovversiva, no? Ormai sì. Ormai sì, esatto. Quello ormai, secondo me, è determinante. E quindi ci è venuto per riflesso condizionato, perché nell'essico familiare ormai dei telegiornali, l'associazione ha delinquere, non è che devi bruciare troppi neuroni per ricordarlo, perché ci sono dei nomi di associazioni pompose, con una semantica importante. Noi invece ci siamo buttati sul nazionale popolare. Adesso si usa molto anche i, come si dice, gli acronimi, no? Gli acronimi. Tu vedi una roba di chissà cosa significa, no, è un acronimo. È un acronimo. Poi dopo vedi, e boh. Che già ricordarlo era scutaneo, perché ti deve ricordare una Schindler list di cose pazzesche. Tra l'altro. Noi invece siamo molto più zen, molto più intuitivi, e pensiamo che la cultura in qualche modo possa delinquere, ovviamente con una valenza positiva, se no avremmo scelto altro, insomma. Beh, però l'arte è sempre stato rompere gli schemi, in qualche modo. Quindi già il nostro logo, abbiamo scelto proprio questo, un'asta che entra all'interno delle lettere, si fa spazio. Quindi il nostro scopo è un po' cercare degli spazi inisuali, dove parlare d'arte. Quindi l'abbiamo fatto già in vari posti, da un orefice, uno spazio di massaggi per le donne, lo facciamo a lapidario tergestino, quindi in mezzo a busti romani o mosaici. Dove non ci possono lapidare, ovviamente. Dove non ci possono lapidare. Perché vi nasconde il drivo. Esatto, perché manteniamo l'anonimato di altri busti. Siamo stati anche un concessionario di Arco Svaglio. Quindi portiamo arte dove inisualmente non c'è. Sì, detto così, non è che siamo portatori del verbo. Diciamo che cerchiamo di sdoganare la cultura da tutta una serie. La cultura, noi cosa facciamo nello specifico? Raccontiamo la vita dei grandi artisti del Novecento. Io ho un mio gineceo personale di donne dolenti, ma non dolose. Di donne che hanno trasformato veramente il veleno in medicina. Cercando anche di portare un messaggio di leggerezza, di levità. Ne ho bisogno io, che sono la prima a leggere le storie e poi a raccontarle con ausilio di musica. Perché abbiamo anche un pianista sul quale non spariamo, che è Riccardo Morpurgo. Assolutamente. Abbiamo un gruppo nutrito. E quindi cerchiamo appunto di portare le storie di queste persone in luoghi meno retorici. Ecco, meno consueti, no? E' anche divertente, perché così il pubblico è vario. Ma è difficile convincere poi i proprietari di questi luoghi o andate in qualche modo sul sicuro adesso? Ma finora ci hanno sempre invitato. A parte il lapidario tergestino, che è una location che mi piaceva molto, ho chiesto il permesso del comune per valorizzare. Infatti tante persone si perdono, vanno all'orto lapidario. No, i triestini, ho visto, conoscono un po' quel castello di San Giusto. Ok, quindi anche un modo per... È vero, c'è una labirintite, ma dove? Se lo dici a un turista, sa, se lo dici a un triestino, non sa. Devi spiegargli bene quella mappa. Esatto. Per il resto, persone che hanno partecipato, poi ci chiedono di portarlo... Gli incontri sono a una certa cadenza regolare oppure no? Al castello di San Giusto facciamo ogni sabato con doppio turno, quindi alle 11 e poi alle 14, ripetiamo lo stesso evento. Ogni settimana, abbiamo iniziato l'altra settimana con Marina Abramovic, e adesso continueremo il nostro filone di argomenti, da Edith Piaf, che sarà appunto Cristina Voladei, a parlarci il prossimo 17 novembre, vero? 17 novembre. Sì, ma variamo un po' i temi, quindi facciamo dalla musica, al cinema, alla fotografia, alla pittura... Se avete bisogno di qualcuno che parla del cinema, io sono disponibile sabato, il mio giorno libero. Bene, bene. Io ho fatto Stanley Kubrick, però non ti ho visto. Eh no, eh no. Non vale. Prima bisogna partecipare. Ah, ho capito. No, no, ma guarda, ti puoi candidare benissimo, Bosazzi, a parte che ci conosciamo dal Tarno Medioevo e te. O un paio di nomi che potrebbero essere interessanti. No, ma infatti, ma il raccontare, ormai c'è la sindrome della narrazione, no? Cioè è tutto che viene narrato, la medicina, il teatro. In realtà, trovare le parole per raccontare in una maniera non eccessivamente greve storie importanti, composite. Io, per esempio, ho portato tanto Frida Kahlo, un po' perché c'è questa, no, c'è stata questa sindrome da Frida Kahlo, tutti quanti e bla bla bla. Cercare di raccontarla, costruendo poi, no, una sorta di microtrasmissione, perché c'è la parte visiva, c'è la parte musicale. Non è che la gente, un'ora e mezza, la gente si può passare anche i lacci emostatici, perché no, ne può più, insomma. Invece cerchiamo di rendere rapsodica la cosa, e questa è una grande sfida anche personale, cioè il riuscire a rendere leggero, udibile, ascoltabile, ed edibile, perché in qualche modo dopo te la mangi la storia, qualcosa anche di sostanzioso, però per tutti. Questa è la grande scommessa. Lo dico sempre, appunto, si chiama aperitivo con l'arte, quindi già dal nome uno deve capire il clima, il clima che trova tante volte è, vengo per il congresso, vengo per la lezione, no, guardi, non c'è né un congresso, non c'è una lezione, quindi non ci sono palchi, non usiamo palchi, quindi vogliamo essere alla stessa altezza del pubblico, il pubblico può partecipare, ma noi vogliamo proprio vederli in faccia, vedere gli sguardi delle persone, comunicare. Noi siamo proprio l'anti-streaming, se vogliamo. Prima dell'aperitivo. Prima dell'aperitivo, questo sì, altrimenti diventa difficile. Noi siamo l'anti-streaming, cioè se vuoi essere interessato all'incontro, ok, ti svegli, vieni da noi, noi ti raccontiamo una storia, un po' come essere a tavola fra amici. Esatto, sì, sì. Ad esempio, tu mi parlavi prima di Fellini, quindi siamo a tavola con te, cominci a parlare di Fellini, è un po' questo il nostro contesto, diciamo. Sì, sì, sì. Deve essere piacevole, non è... L'altra settimana a cena con... Non so se tu conosci anche Maurizio Lorber, sì. Sì. E abbiamo messo su uno spettacolino, nel senso su... Stavolta su Billy Wilder, che è un altro... È il tuo... È il mio... È il tuo dove tornare. E noi faremo su Mary Limorrow. Ah, e quindi, vedi, dovrei... Qua nascono, vedi, tra le affinità elettive, tra una sinapsi e l'altra... Tu fai Mary Limorrow, no? No, no, nel senso... Denotolata, ovviamente. Si denotolata, ovviamente. Ma ecco, i personaggi... Io potrei fare Anna Magnani, Roma, città aperta, con le occhiaie che c'è. No, no, siamo una bella squadra. Cioè, oltre a me e Cristina, c'è Lorenzo Quaviva, quindi un attore conosciuto a Trieste. Ha fatto la Beat Generation. Sì, ha fatto un argomento molto difficile, la Beat Generation, che è piaciuta molto, con l'accompagnamento musicale anche di Morpurgo. Poi c'è Francesca Martinelli, che è un artista, un autocente di storia dell'arte. Poi abbiamo Lorenzo Zuffi, che è anche un attore. Tullio Fragià. Tullio Fragià, come uno dei docenti più richiesti in Italia, un docente di fotografia. Lui ha fatto su Cartier-Bresson, abbiamo sempre avuto Soldau. I nostri appuntamenti hanno... Non voglio dire, ma possiamo... Detto Soldau, tu fai venire il rascutaneo. Soldau farà di nuovo, però va bene. La seconda. Esaurito, sì. Adesso non so se sono passate, però noi abbiamo anche delle immagini. Sì. Ecco, quello è Fragià. Questo è Tullio Fragià. Quello è Tullio. Che raccontava appunto della... Eric Cartier-Bresson. Sì. E lui farà anche su Rock Progressive, quindi cambia totalmente l'argomento. Sì, a seconda poi di... Ma è una persona molto preparata. Quella sono io, quella postura da... Che Dio me perdoni. Quella all'interno del lapidario. Quella è il lapidario, come vedi, una cripta, la cripta dei capucini, ma lasciamo perdere le citazioni. Questa è l'Alda Merini. È un'altra mia... Come dire, un altro mio cavallo di battaglia. È stato un incontro molto interessante su Alda Merini. Difficile da fare, perché l'argomento era tosto. Quindi la protesta di Navigli, però... Cristina è stata veramente brava a renderlo anche passabile per tutti. Eppure abbiamo inserito Gianni Brego Cardenco, quindi le fotografie sui manicomi, la legge Basaglia. Adesso che Cirri e Beppe Dell'Acqua vanno in giro raccontando, tra parentesi, come dire, c'è proprio una sorta di sincronicità di tematiche, no? No, l'Alda Merini... Prima le devo, come dire, entrano dentro di me queste... Io facevo la giornalista, lo so benissimo, e faccio, cioè, non è... Per me è un esperimento, per me, come persona, antropologicamente interessante, no? Quello di trovare le parole giuste, non giusto la parola, per raccontare, per dare significazione a certi aspetti. Però, scusa se ti senti... È difficile... Oddio, in realtà, come dire, concettualmente sembra difficile, in realtà no. Però, quando una persona, quando un divulgatore, quale è un giornalista, insomma, quale noi siamo, adesso, insomma, è inutile che mi attribuisca, però, insomma, noi siamo dei... Noi usiamo le parole scientemente. Sì. Vabbè. Sì. Noi sì. Andiamo avanti. Attenzione, che pericolosa. No, no, ma... Ma giriamo pagina. Alla volante in radio. Per noi è semplice fare in modo che le cose che piacciono a noi, i personaggi che piacciono a noi, piacciono anche agli altri. Nel senso, abbiamo la capacità di renderli, di renderli interessanti, insomma, no? Ci sono dei trucchi particolari che tu utilizzi? No, no, no. Io ho fatto... attenzione perché c'è un... c'è un sms, quindi se solo riesco ad arrivare fin là. Ho partecipato agli incontri dello scorso inverno e non posso che rinnovare i complimenti a Massimo e a tutti i relatori. Un saluto, Federica, credo che sia. Ah, bene. Ringraziamo. Sentitamente ringrazio, come si suole. Sì. Perché aveva la possibilità di inviare... No, no, come dire, io ho fatto vent'anni di... c'è sette anni di Radio Rai, perciò io usavo un altro strumento che era la radio, dove non vedevo, era un'entità epifenomenica che viaggiava nell'Etere e ho spaziato insomma su tantissimi temi. Qui, quello che ti dicevo prima, che è un esperimento per me, anche di umiltà, perché entri in punta di cuore nella vita degli altri. Sì, però... Non ho queste fascinazioni sulla via di Damasco, folgorazioni. Per esempio la Frida Kahlo, no, che c'è questo boom pazzesco, questa sorta di bolla, le mostre, Facebook, gli aforismi, sai che ormai si passa da una moda all'altra, come anche la Merini. C'è anche un cartone animato su Frida Kahlo. Ormai c'è di tutto. Sì, c'è di tutto di più. Insomma, un merchandising in ogni declinazione. Pian pianino, anche dentro di me, sedimenta questa cosa. Quindi ogni volta il racconto, come dire, subisce delle diversificazioni. Non è sempre la stessa cosa. Una volta, in un modo, una volta piace di più, perché magari tocco, entro nel cuore di qualcuno e che quindi è magari una suscettibilità, una vulnerabilità diversa. Sono donne profonde, sono donne composite, sono matrioshche. Adesso le Edith Piaf, no? Edith Piaf, come dire, devi cercare, devo, parlo per me ovviamente, di non essere retorica, di non essere banale. Io stessa mi devo divertire, diceva Sant'Agostino, nutre lo spirito solo ciò che lo rallegra. Io mi devo rallegrare, non posso andare là tipo Tina Pica o Weekend col morto, perché sennò la gente e poi si è finì. Benissimo, grazie. Ma dicevamo prima, deve essere una chiacchierata, quindi la chiacchierata non la fai mai due volte uguale. Esatto. Ah già sì, perché c'è subito l'immediata replica del... Ma poi la risposta col pubblico cambia, ad esempio Fra Giacomo ha fatto cinque volte Erika Taberson, cinque volte tutte esaurite, e lui ha fatto cinque volte diverso, ha cambiato la struttura. E quindi è un po', un po' succede per tutti questo. Ma ci sono degli... Lui adesso fa una cosa fantastica, fa Gerda Taro. Domenica a Clauiano, ecco un altro posto dove... Sì, perché siamo itineranti a geografie variabili. Così, siamo arrivati, è Clauiano, che è un paese vicino alle porte di Palmanova, un borgo medievale antico, e lo facciamo all'interno di un'azienda vinicola di fine del Settecento, con degli alberi fantastici. E anche delle coppie di vino. E' stata usata questa azienda, per dirti, per il film di Bellocchio, di Marco Bellocchio, La Bella è addormentata, hanno fatto delle scene... Noi facciamo nello stesso posto, questo aperitivo con l'arte, dedicato questa volta a Gerda Taro e Robert Capa. Quindi, due personaggi, due grandi fotoreporter, e racconto un po' la storia degli anni 30, quindi da Parigi a anni 30, fino alla guerra civile spagnola, poi Gerda Taro morì proprio nel 37. Ma ci sono, per esempio, adesso sulla Capa... Perché poi, la cosa che credo sia affascinante anche dei vostri incontri è che non si tratta di... non andate sul sicuro con gli argomenti e con i personaggi, no? Non andate sul sicuro, nel senso, non esplorate territori già battuti, nel senso, uno potrebbe fare, appunto, che ne so, Fellini, piuttosto che... Fellini, sicuramente faremo Fellini. Parlavo prima con un certo Bosazzi, che mi diceva... Ma manteniamo l'anonimato. te ne ho l'anonimato. No, in diretta si può dire questa cosa. Esatto, sì, sì, si può dire. ognuno ha le proprie fascinazioni, Da Ettore Scola a Fellini, facciamo tutto questo. Vivian Meyer, per esempio, io sono laureato in fotografia su Roland Barthes, quindi tutto ciò che attiene proprio l'aspetto iconico, no? La semantica visiva è una cosa che a me piace molto. E quando il mio debutto è stato con Vivian Meyer, questa fotografa di Chicago, ho trovata... è una storia anche fantastica, se vogliamo. Ma è stata una cosa bella, era un territorio sconosciuto, molte e poche persone conoscevano, al di là degli addetti ai lavori, c'era stato quel libricino, no? Che aveva fatto l'Espresso con... E l'è uscito il documentario, però anche lì una caterva di gente è venuta, come dire, a vedere come la raccontavamo, che sfumature, insomma, poi ognuno di noi ci mette il proprio, a seconda delle proprie impostazioni, ovviamente, ognuno colora poi, no? Questo racconto. moduliamo gli argomenti, cioè non cerchiamo sempre la Frida Calo che piace a tutti, cerchiamo di fare, però abbiamo anche bisogno di un po' che la gente deve conoscerci, poi viene, non so, vedono gli incontri di Cristina, piace a Cristina qualsiasi cosa fa, più avanti faremo anche a Paolo Conte con Cristina, quindi un po'... Paolo Conte? Sì, cambiamo un po' il tiro, è l'uomo della mia vita, ma lui non lo sa, gliel'ho anche detto, ma non se lo ricordo ormai. Dobbiamo far, quindi raccontate... E non fate Leo Ferré. Ah, non sarebbe male, non sarebbe male. Sì, però, abbiamo sempre da budget a disposizione... Mi vengono in mente, siamo... Anche perché, anche perché penso che in questo modo, come dire, voi potete anche, chi fa gli incontri, può esercitarsi anche su avvenimenti o su personaggi che magari non ha ancora, virgolette, incontrato. Certo. Nel senso, arrivati poi ad un certo punto diventa più interessante piuttosto che parlare di ciò, parlare di ciò che si sa, parlare di ciò o di chi, si è studiato, eccetera, andare anche alla scoperta di territori veramente nuovi. Tu hai detto una cosa prima, la passione. Cioè, quindi noi, sono personaggi in cui crediamo, ci identifichiamo e quindi viene fuori e lo spettatore percepisce questa cosa qua. Questo chi è? Angelina Giolini? No. Queste sono delle foto che... anche io sono. mie. Perché lui è un fotografo. Ah, sono foto della mostra del cinema di Venezia. Ah, quindi insomma è... Sì, non chiedermi il nome che non mi ricordo, so che aveva presentato Sanremo. Ah, boh, sì, stavo per dire che era una tipo però non sono tanto televisivo, si mette un po' un misto, però ecco. Non aveva il cotè di Mirella, insomma. Questa, accidenti, questa, Giosefianamente, è una foto curiosissima, per dire la verità. Ci sono come minimo tre piani di... Bravo. tre piani di lettura, tre piani di lettura. Io sono senza piani, per cui vedo delle ombre, ma cerco di avere... Sì, certo, tridimensionale quasi. Sopra, e anche Hitchcockiana ricorda un carrello, il carrello indietro di Hitchcock in Frenzy. vabbè, sono questi sono... No, vedi, questo è il lessico familiare di Bosazzi, no? questo no. Sì, ma hai capito come nasce un aperitivo? Nasce anche questo. Parlando così con te, viene fuori questa citazione. Ma io citavo, non a caso, citavo, non a caso, questa cena a cui eravamo, eravamo con questo... Come le allegre comare di Windsor. Sì, c'è, là, incominci a chiacchierare, poi magari chiacchieri di... cominci con cose di università, in quel caso, e poi parli delle cose... Sì, poi c'è una preparazione dietro, perché ogni appuntamento richiede due mesi di lavoro, quindi documentazioni, tanti libri, compriamo, studiamo, quindi le cose che diciamo sono vere, perché mi sembrava... Non c'è affabulazione. Non c'è il circa. Non c'è affabulazione. Lo diciamo, però deve essere questa conversazione così amichevole. È diverso. L'impianto, diciamo così, come si dice, a corredo, Cioè, le eventuali immagini, eventuali... Per esempio, per Edit Piaf, cosa avete... Se si può dire, insomma, perché non scopriamo... non scopriamo tutte le carte. Ma figurate. Ma ci sono canzoni, brani musicali, eccetera. Facciamo dei misti, facciamo una ricerca notevole su documentazione vecchia, quindi di repertorio. Cerchiamo poi, normalmente, monto, in base all'argomento, quindi, non so, in questo caso, su cui di Piaf, ci troviamo più volte con Cristina e cerchiamo una trama e poi inseriamo un po' gli argomenti. un'ossatura. Un'ossatura con... Visiva, acustica, perché ovviamente Edit Piaf non puoi... Stuntino dei canti. No, per l'amore di Dio, dei sitani morali, la gente... al contrario di tanti altri ammuntamenti, a meno il contesto storico, su altri approfondiamo, quindi con Alda Merini, appunto, siamo andati a vedere la legge Basaglia, le fotografie di Gianni è stata la mia tesina di giornalismo, per cui quello era... Si varia, con la big generation uguale, quindi abbiamo fatto un salto nella storia nel 1950, analizziamo qual era l'America in quegli anni, subito post-guerra, e quindi si fanno varie citazioni su questo, prima del personaggio deve arrivare il contesto storico, questo è carino, quindi quando faremo Mary Lee Monroe, c'è tutta una parte politica interessante da raccontare, quindi non è solo la biografia è nata, bla 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 bla, l'interesse sta questo. Sapete questa storia, adesso la dico così, dilla, dilla, nota di redazione. Sapete che Sinatra voleva sposarla? No. Sinatra voleva sposare Mary Lee Monroe. Io voglio sposare te, Bosaglia, in terze nozze se sposevo in casa di riposo, se divertivo, roba dei mali. Sinatra voleva sposare Mary Lee Monroe perché, non perché ne fosse innamorato, ma per proteggerla, perché visto quello che le stava succedendo, credo, con i Kennedy, con tutte queste cose qua, lui aveva ragionato dicendo, se io la sposo, nessuno farebbe del male alla moglie di Frank Sinatra. Ma caro! Poi, probabilmente perché chissà cosa avrebbe combinato da solo lui, se questo è un altro discorso. questo non è dato sapere. L'idea era quella che lui avrebbe potuto sposare Mary Lee Monroe per proteggerla. Approfondiremo a... Questo è un archetipo femminile, come dire, preta portente, l'idea dell'uomo, dell'uomo italiano, che ha proprio potere taumaturgico, addirittura, è un io ti salverò, no? Vedi, è un altro disco, ti piace? io ti salverò è un libro di una... Robin Norwood, una psicoterapeuta americana, che era proprio una manualistica. noi partiamo invece... Feltrinelli 12,50 euro a questo punto per essere proprio così completi. Tiralo fuori dalla borsa. No, no, ma sai, io ti salverò una sindrome che le donne hanno con l'uomo, come dire, problematica. Però potremmo parlare di donne. E qua, per par condicio c'è anche... non facciamo questioni di genere, no, non abbiamo le paranoie del genere, quindi anche l'uomo protettivo non so perché. Nel film è l'uomo che chiede aiuto anche in Io ti salverò e Ingrid Bergman che protegge l'uomo, insomma. Comunque questa idea di... Ma per esempio, ecco, a me interessa Edith Piaf in che contesto? Sempre, se poi... Certo. In quale delle tante Edith Piaf racconti? Ma io ho fatto, ho letto una caterva di cose, ho cercato di fare una sintesi o ci sarà anche, come dire, un volo bello sull'amicizia forte, profonda con la Marlene Dietrich, no? Altra donna che racconterò. Insomma, queste affinità elettive che partono da visioni totalmente diverse. La Marlene Dietrich, una donna, come dire, sicura di sé, potente, che vede in questa piccola donna, perché la Piaf era proprio, no, in Argo, come si dice, era un passerotto, sembravano antitetiche, una bella, seducente all'estetica della bellezza e l'altra che era un, come dire, un niente di donna. Perciò anche raccontare queste amicizie femminili, contestualizzandole ovviamente, perché nel 1915 era nata la Piaf, ma anche Billie Holiday, un'altra donna americana, bellissima, bellissima, perché è stata rivoluzionaria, l'unica donna nera che canta e suona con un'orchestra di uomini bianchi, quindi una cosa assolutamente pionieristica. Ecco, quindi ci sono anche degli anedoti, delle piccole cose che in realtà, come dire, sono significative all'interno di un contesto. Quello che diceva lui, contestualizzazione storica è inevitabile, anche perché queste donne entrano, fanno parte della storia, piccole storie che creano la storia, ma cercando anche similitudini, anedoti, racconti, curiosità, insomma qualcosa che renda veramente edibile l'ascolto, perché sennò diventa una specie di bignami assettico. Per esempio, ultima domanda ad entrambi, ci sono anche nella storia, diciamo così, dell'arte, nella storia, anche se vogliamo, dello spettacolo, chiedo scusa, dei personaggi scomodi. Cito uno, il primo che mi viene in mente, Lia Kazan, per dire la verità. Mamma mia, parti da proprio da... Sì, di uno così, eccetera. Anche il personaggio scomodo attira, cioè raccontare il personaggio scomodo con chiari scuri, eccetera. Abbiamo, guarda, su questo offro un assist perché abbiamo fatto due settimane fa, abbiamo proprio debuttato al Castello di San Giusto facendo un appuntamento su Marina Abramovic, quindi se vogliamo un artista scomodo, un artista che ha fatto sempre discutere, quindi è stato questa profonda. La scudella. Tu, la scudella. Però, per dirti, oltre alle polemiche, al di là delle barche, non ci interessava questo, ma capire che le performa, non è un artista semplice da capire, effettivamente io avevo anche delle riserve, ho detto, sì, facciamolo, perché voglio scoprire questa Marina Abramovic, e devo dire che Francesca Martinelli ha dato una chiave veramente interessante, quindi ne uscire più ricca, oltre che vendavamo Scotex tutto il tempo, perché la gente piangeva, abbiamo mostrato la storia poi tra lei e l'ex marito, Ulai. Quando c'è quel video anche in cui si trovano, sì, quello è oggettivamente abbastanza... Comunque funziona, se le persone anche in quel momento una lacrima ci sta, perfetto, vuol dire che è arrivato. Ma anche io, io stessa, l'Alda Merini per esempio, no, sono donne matrioshche le mie, lo dicevo anche prima, no? Ho la stessa Frida Kahlo, che usava se stessa come un corpo di, come dire, il suo corpo come una sorta di installazione d'arte contemporanea, si dipingeva i busti, c'era tutta una sua relazione. E devo dire che anche per noi è una scoperta, cioè non puoi emozionare se non ti emozioni e il senso del tutto non è l'incontinenza della gente che vede le cose, ma il sentire che c'è una comunicazione vera, che quello che noi diciamo, queste parole, sono cose, si depositano, no, in quelli che abbiamo di fronte e diamo una sensatezza anche al nostro dire, perché sennò diventerebbe una roba eh, è nata, è nata, è nata, una vita difficile, cioè voglio dire, no, non è che funziona così. No, oggettivamente no. Oggettivamente no, diventare bellitarci. ricordiamo questo appuntamento, quindi è sabato prossimo. Allora, prima domenica, se qualcuno ha piacere di fare la gita a Claudiano, quindi in questo borgo medievale nell'azienda Vinicola, parleremo di Gerdattaro e Robert Capa, quindi contestualizzando dal 1930 all'inizio della seconda guerra mondiale, questa storia di due ragazzi che erano amanti, poi sono diventati due grandissimi fotoreporter, Capa sicuramente il più grande fotoreporter della storia. Gerdattaro ha vissuto nell'ombra per tantissimo tempo e poi adesso in questi ultimi anni è stata riscoperta. C'è stato il premio strega. C'è stato il premio strega della ragazza con la laica e quindi riprendiamo un po' l'argomento che è molto interessante. Anche guerra civile spagnola si sa ben poco, devo dire la verità, cioè mio figlio va in terza media, ho visto c'è mezza pagina sulla guerra civile spagnola, quindi riscopriamo perché in mezzo c'è Hemingway, c'è George Orwell, c'è Federico Garcia Lorca, c'è Picasso, insomma c'è un contenitore bello ricco di argomenti. Poi la settimana dopo invece saremo al Castello di San Giusto quindi riprendiamo gli appuntamenti qua a Trieste con Cristina Monadei che racconterà e di Piaf. Allora, grazie per essere stati con noi. Cristina Monadei è vicepresidente dell'Associazione Culturale dell'Inquere, Massimo Tomasini è il presidente. Buon lavoro, grazie davvero. dopo la pubblicità scatta l'appuntamento con Studio Telequattro che è Trieste diretta con un'altra sigla e parliamo, torna a trovarci, era un po' per dire l'età che non veniva, la dottoressa Fulvia Adarossi, quindi parleremo di questioni che riguardano gli animali. Tra poco. a l'uomo. l'uomo. A l'uomo. A l'uomo. Grazie a tutti.